Il mio paese muore ogni giorno di più, fra cancelli rugginosi e case marcite. E non serve che uno straniero abbia investito qui tre ballini di cemento. Non può bastare un grande dormitorio estivo. Il mio paese muore e le donne di nero con i fiori in mano l'accompagnano dal cimitero piano piano. A piedi lungo la Lima per narrare alle comunità montane della valle. Questo l'obiettivo e il risultato del progetto Tessere il Valico. Il regista Cesare Baccheschi ha seguito per dieci giorni di cammino Valentina Fanoni e Andrea Mori. Ad ogni tappa la raccolta delle testimonianze e della memoria dei luoghi. Alla tappa successiva, uno spettacolo per restituire quanto ascoltato, tessendo appunto e dando voci alla comunità e alla sua memoria. Abbiamo trovato un territorio assolutamente accogliente e all'inizio, come tutti i luoghi di montagna, respingente, possiamo dire, nel senso restio a raccontarci delle cose, ma una volta entrati nel loro cuore, nelle loro conoscenze, è stato molto semplice. Poi farci raccontare le loro storie ed era bello vederli, emozionarsi una volta che le loro storie venivano raccontate. Beh, le storie ci appartengono in tutti i territori, in tutto il mondo. Io credo che l'incontrare l'essere umano e farsi raccontare la sua storia e renderla divulgabile o comunque renderla unica, perché è la sua ed è solo sua, permette di creare poi la magia intorno a quello che una persona ti racconta, grazie ovviamente anche al teatro e agli strumenti che utilizzavamo per rimettere in scena le storie che ci venivano trasmesse dalle persone. Il lavoro finale, un film della durata di oltre un'ora, è stato presentato sabato al Teatro Accademico di Bagni di Lucca all'interno del progetto non-profit di Canyon Park Ecolab. L'obiettivo infatti non è soltanto di raccogliere le storie della Val di Lima, ma è di raccogliere le storie di tutte le montagne d'Italia. E quindi vogliamo portare gli artisti Andrea Mori e Valentina Fanoni in giro per l'Italia e soprattutto in giro per le montagne italiane, in maniera da dare a loro la possibilità di raccogliere le storie e di tessere le valli che compongano le nostre montagne. Un'opera corale di ascolto e reciprocazione. Il tentativo di trasformare un'esperienza singolare in un trattato sull'abbandono delle montagne, sulla simbiosi tra uomo e natura e sulla malinconia del tempo che passa. La storia di una vallata e di tre viandanti che in qualche modo rappresenta la storia di noi tutti.